Novantadue. Novantadue. Subordinate clauses, VAT, 2. Frasi secondarie con che, 2. Frasi secondarie con che, 2. I'm angry that you snore. Mi secca che tu russi. Mi secca che tu russi. I'm angry that you drink so much beer. Mi secca che tu beva tanta birra. I'm angry that you come so late. Mi secca che tu venga così tardi. Mi secca che tu venga così tardi. I think he needs a doctor. Credo che abbia bisogno di un medico. Credo che abbia bisogno di un medico. I think he is ill. Credo che sia malato. Credo che sia malato. I think he is sleeping now. Credo che adesso dorma. Credo che adesso dorma. Speriamo che sposi nostra figlia. Speriamo che sposi nostra figlia. Speriamo che abbia molti soldi. Speriamo che abbia molti soldi. Ho sentito che tua moglie ha avuto un incidente. Ho sentito che tua moglie ha avuto un incidente. Ho sentito che è all'ospedale. Ho sentito che è all'ospedale. I heard that your car is completely wrecked. Ho sentito che la tua macchina è completamente distrutta. Ho sentito che la tua macchina è completamente distrutta. I'm happy that you came. Mi fa piacere che sia venuto. Mi fa piacere che sia venuto. I'm happy that you are interested. Mi fa piacere che abbia interesse. Mi fa piacere che abbia interesse. I'm happy that you want to buy the house. Mi fa piacere che voglia comprare la casa. Mi fa piacere che voglia comprare la casa. Mi fa piacere che l'ultimo autobus è già venuto. Temo che l'ultimo autobus sia già passato. Temo che l'ultimo autobus sia già passato. I'm afraid we will have to take a taxi. Temo che dobbiamo prendere un tassi. Temo che dobbiamo prendere un tassi. I'm afraid I have no more money. Temo di non avere denaro con me. Temo di non avere denaro con me. Quem può prendere un tassi. Temo di non essere apprezzate. Temo di non essere apprezzate. Grazie a tutti.